Ci sono serate memorabili, speciali. Questa è una sicuramente da ricordare per sempre. Grandi uomini, persone serie, con un desiderio profondo di migliorare, di cambiare, di elevare il proprio territorio. Io mi sono sentito in famiglia. Ringrazio di cuore il padrone di casa, il sindaco Agostino Astore. Ringrazio il sindaco di Magliano Vetere, Adriano Piano. Ringrazio Gabriele De Marco, con il quale iniziamo questo percorso come Paese della Poesia e come Premio Cilento Poesia. Credo che questa unione ci porterà lontano. Chi vorrà unirsi a noi troverà la porta aperta e così insieme creeremo una grande piramide culturale del Cilento, dunque un grande epicentro che simbolicamente ospiterà gli innumerevoli maestri empatici e chiaramente tutte le persone che amano la cultura e che quindi verranno a visitare il Cilento come patria di questo patrimonio del movimento letterario, artistico, filosofico e culturale dell'empatismo.